Il nuovo caso Vatilix riesplode il 2 novembre con il clamoroso arresto oltre Tevere di un monsignore spagnolo, Luis Angel Vallejo Balde, della PR Francesca Immacolata Ciaucchi. L'accusa per i due pesantissima rischiano fino a 8 anni di carcere perché avrebbero travasato in due libri di prossima pubblicazione le carte sulle finanze vaticane che avevano giurato di mantenere segrete. La donna è stata rimessa in libertà, ha collaborato con gli investigatori, ha fatto tutto il monsignore, se difesa io ho cercato di fermarlo. I due corvi dicono di aver agito per aiutare il Papa per vincere la guerra contro certe cordate che si opporrebbero al rinnovamento e alla trasparenza. Ma Bergoglio, che in queste ore si dice molto ammareggiato per l'intera vicenda, ha personalmente approvato gli arresti. Nel luglio 2013 Vallejo era riuscito a far nominare Ciaucchi nella commissione che avrebbe avuto tra le mani le carte più riservate sulle finanze vaticane. Il 3 marzo 2014 invece, dopo aver istituito la segreteria per l'economia e aver nominato nuovo prefetto il porporato australiano George Pell, Francesco ha reso noto il nome del numero due del di Castero e invece di desinare Vallejo Balda, ha nominato a sorpresa il maltese Alfred Xereb. Un duro colpo per la coppia Vallejo-Ciaucchi, qualcuno ipotizza che il passaggio dei documenti possa essere stata una vendetta. Adesso c'è molta attesa per la giornata di giovedì, quando verranno rese note nel dettaglio le carte dei libri di Fittipaldi e Nuzzi, sulla gestione del bambin Gesù, sui costi dell'appartamento di Bertone, su alcuni strani conti dello Iore e sugli affitti delle case del Vaticano. I gendarmi già da tempo indagavano sul passaggio dei documenti, non è escluso che vi possano essere altri indagati.